Ragazzi stavo facendo dei drop test con Bella Ciao ad una certa ci giriamo e vediamo Mr. Squalo fare la coperta di Bella Ciao Bella Ciao resta qua e guarda che a drop test gli farò fare andiamo sul divano e lanciamolo da quella parte e 3 e 2 e 1 e non si è fatto proprio nulla come devo fare come devo fare a distruggerlo non si distrugge secondo short e ciao a tutti ragazzi vedo vedo il drago ma aspetta cosa stanno facendo i nostri elastic corpse ehi aspetta un momento che è questo? adesso gli faremo fare un bel drop test da là e 3 2 e 1 ok vediamo come sta e questa prova lo chiameremo Mr. Robot terzo short e ciao a tutti ragazzi vedo i nostri elastic corpse stare a terra e vedo Mr. Robot disegnare Gal Galatic ah no si chiama Galatric adesso ti farò fare un drop test forte 3 2 1 ok e anche questa sfida l'ha superata fine fine fine